Telespettatori di Telequattro, buongiorno, benvenuti al quarto d'ora in diretta che anticipa l'edizione delle 13.20 del nostro telegiornale. Quest'oggi siamo in compagnia dell'ingegnere Giuseppe Razza, presidente di Sustainable Financing Trieste, finanza sostenibile. Grazie ingegnere per essere tornato nei nostri studi. Con l'ingegnere Razza parleremo delle attività di Sustainable Financing. A cominciare acceneremo all'appuntamento di sabato prossimo all'interno del simposio internazionale geoadriatico che noi avevamo in qualche modo già trattato qualche giorno fa, ospitando Roberto Vitale che è il presidente della Vitale Onlus che organizza questo evento. Lei, ingegnere, in quell'occasione coordinerà un panel. Sì, un panel molto importante per il quale ringrazio nuovamente il presidente Vitale e anche tutta l'organizzazione del geoadriatico che ci ha onorato e mi ha onorato di poter presiedere questo prestigioso panel a cui parteciperanno degli illustri ospiti nazionali e internazionali di altissimo livello che parleremo delle nuove architetture finanziarie europee, dei nuovi strumenti per finanziare i progetti di sviluppo, soprattutto non solo nell'Adriatico ma anche nel Mediterraneo e in tutta l'area, le frontiere esterne dell'Unione Europea. Cariamo un dato, ingegnere, che forse è uno di quei dati su cui vale la pena fermarsi. Si è tentati a pensare magari che in un periodo come questo dove la politica, ma non soltanto la politica dove la vita anche dell'Europa è sconvolta da quanto sta accadendo fra Russia e Ucraina, si è portati a pensare magari che tutto quanto rimanga fermo, rimanga sospeso. In realtà i progetti, le idee anche, non è che si fermano. No, certo, di fatti anzi in questo direi che noi vorremmo rappresentare in questo senso proprio anche un esempio positivo, nel senso che innanzitutto ringrazio Telequattro per questa ospitalità e anche per l'ospitalità che ci è data in passato e spero che anche in futuro potrà dare ospitalità anche alle altre imprese che fanno parte, le banche che fanno parte della nostra associazione. Noi siamo un'associazione senza fine di lucro che si è messa a disposizione per fare dei progetti molto, delle proposte molto importanti senza chiedere una lira di contributo pubblico, non solo a livello di associazione ma soprattutto per gli investimenti, si parla tanto di miliardi di Euro, di milioni di Euro che vengono da PNRR, da tante risorse, noi invece siamo un gruppo molto importante di imprenditori del territorio e non solo del territorio che sono disponibili a investire su proprie idee, nuove idee progettuali per dare sviluppo a questa città in una logica, in una prospettiva internazionale secondo quelle che sono le nuove strategie europee. Quindi è chiaro che nei nostri progetti ci sono anche i ruoli che possono avere sia nei processi di preadesione dell'area balcanica nell'Unione Europea, ma anche nei processi di ricostruzione dell'Ucraina e della Siria o dei progetti importanti dell'area mediterranea. Le cito anche alcuni esempi, stiamo lavorando anche per creare un po' l'internazionale nel settore biotech, bio-hitech, digital-hitech, energetech a Trieste, trasferendo un modello di innovazione da Trieste e anche tutta l'area balcanica, ma le imprese che mi onoro di presiedere, ognuno ha delle idee di sviluppo fantastiche e anche delle proposte molto interessanti che mi piacerebbe proprio anche che fossero discusse qua a Telequattro con le stesse imprese interessate, perché sono delle idee molto buone, molto innovative e soprattutto che mettono a disposizione di questa città, le proprie risorse oltre che le proprie idee. Mi pare di capire, se la interrompo, che mai come in questo momento giova parlare di tutto ciò, perché se no si ingenera nell'opinione pubblica e anche poi in altri settori l'idea che per il momento poco si progetta, poco si fa per via della guerra. Dirò di più, in questo momento di particolare difficoltà anche della politica delle istituzioni, non solo per una certa disaffezione che è stata anche dimostrata nelle recenti elezioni, elezioni, ma anche per le difficoltà istituzionali che si trovano ad affrontare realmente lo Stato e l'organizzazione delle istituzioni del nostro amato Paese, perché deve affrontare alle pandemie, alle guerre, alle situazioni di crisi, alle situazioni organizzative interne, eccetera, quindi nonostante le risorse segnate ci sono difficoltà reali e obiettive che le istituzioni vanno a affrontare. Noi ci siamo posti in una logica di servizio alle istituzioni e di dire non abbiamo bisogno dei soldi o delle iniziative, del PNRR, eccetera, eccetera, che vanno avanti, noi mettiamo a disposizione e andiamo avanti con delle proposte concrete sulla quale chiediamo un sostegno delle istituzioni, un sostegno non materiale finanziario, ma un sostegno di carattere proprio istituzionale per sostenere quelle che sono le nostre proposte, che non è solo la sede della Banca Europea, eccetera, o la sede tematica, ma ce ne sono tante altre molto importanti. Ecco, sulla questione della sede della Banca Europea, a che punto se ne parla, per dire la verità, questo magari è uno di quegli argomenti di cui in ogni caso si parla poco per tutta una serie di ragioni, però come siamo messi? Ma guardi, mi fa molto piacere, fra altre cose che proprio all'interno del simposio internazionale geodriatico si parli anche di questa questione, c'è nel panel, c'è anche il consigliere Passacantando, che oltre ad aver avuto una carriera eccezionale come dirigente della Banca d'Italia, della Banca Mondiale e di altre organizzazioni, è stato anche membro del gruppo di alto livello dell'Unione Europea per la revisione della Consiglio d'Europa, per la revisione dell'architettura finanziaria, quindi nessuno meglio di lui ci può dare un aggiornamento sullo Stato. Nello Stato attuale la nostra proposta è quella di fare una sede tematica della Banca Europea, esperimenti sono già stati fatti in questo senso, che sarebbe molto importante, e tematica significa, qua a Trieste ci sono tanti tematismi che sono molto importanti, per esempio, se facciamo una sede tematica nel settore dei trasporti, Trieste che è il principale porto del Mediterraneo e che già usufrisce dei fondi della Banca Europea per gli investimenti, significa avere la possibilità di avere a casa una delle principali istituzioni che finanzia le politiche di sviluppo dei trasporti sostenibili, che significa anche, ha sentito parlare recentemente anche dell'Ub che vogliono fare anche con sostegno della regione nel settore della produzione dell'idrogeno o infrastrutture per lo sviluppo di carattere portuale, però il trasporto è una cosa, per esempio le infrastrutture, se si parla di progetti di ricostruzione, per esempio dell'Ucraina o della Siria, il progetto di ricostruzione, ci sono moltissime imprese, non solo triestine, ma anche friulane della nostra regione che possono essere molto interessate a partecipare a questi progetti di ricostruzione in cui la Banca Europea svolge un ruolo fondamentale, quindi per esempio anche la sede tematica dal punto di vista delle infrastrutture potrebbe essere interessante o ultima anche per esempio il settore biotech, bioitech, digitalitech, qua a Trieste abbiamo avuto delle imprese, abbiamo tuttora delle imprese che operano nel settore bio che è dell'innovazione, con coinvolgimento di tutta, dell'area di ricerca, dell'area di università, che possono essere molto interessanti a svilupparsi e a crearsi questo polo e anche avere il sostegno della BEI attraverso i suoi fondi in questo settore specifico significa creare a Trieste un centro, non solo le strutture tecniche, ma anche le strutture finanziarie che possono sostenere lo sviluppo di questi grandi progetti. Non trova, ingegnere, adesso non vorrei entrare in scivolata come si dice, non trova che alla città sotto certi aspetti sia sempre mancato quella capacità visionaria di immaginare se stessa in questi ruoli. No, guarda, Trieste ha delle grandi e delle eccellenze anche dal punto di vista di sognatori o di immaginatori di futuro. Quelli che in inglese dicono visionaire. Diciamo che è spesso capitato in passato che i triestini abbiano realizzato i propri sogni visionari al di fuori di Trieste, molti sono andati a realizzarli e hanno fatto delle carriere eccezionali fuori Trieste. Però Trieste è sempre stato un luogo di pensiero, di idee, eccetera, eccetera, eccezionali. Certo, ci sono delle difficoltà ad attuare sostanzialmente queste idee, ma questa credo che sia una questione che caratterizza più un discorso di sistema, di sistema italiano, delle grandi difficoltà che abbiamo per una macchina burocratica amministrativa molto difficile, eccetera, lo si vede anche nelle piccole cose, seguo anche il sindaco di Trieste ogni tanto che si lamenta anche lui di tutte queste cose qua, ma non è il solo, quindi è una difficoltà di sistema, non tanto di Trieste, ma credo di un sistema proprio di carattere nazionale che va profondamente migliorato e radicalmente cambiato in questo senso. E' vero che mai come in questo periodo a livello nazionale, a livello internazionale la città gode di un'esposizione molto favorevole, i dati parlano chiaro, poi dopo magari i dati si leggono, quindi si lasciano leggere, però se li prendiamo per buoni un anno, dobbiamo prenderli per buoni sempre, quindi se alla fine di dicembre si va per forza di cose a controllare la classifica delle città del sole 24 ore, significa che quello è indipendentemente da ogni altra considerazione, un parametro da tenere sotto controllo. I turisti sono ritornati alla grande, quindi da quel punto di vista la città è presente. E' anche vero che nella parte micro ci sono dei problemi, sto pensando per esempio alla Principe, sto pensando per esempio anche alla Flex, a fronte poi di investimenti come quella di British and America Tobacco che apre possibilità importanti anche numericamente per quel che riguarda i posti di lavoro. C'è quasi una sorta di schizofrenia all'interno della città da questo punto di vista. Sì, concordo, anche perché poi c'è anche un periodo in cui ci sono notevole risorse che sono state destinate alla città da parte dei vari fondi che sono stati messi a disposizione anche dall'Unione Europea. C'è una certa schizofrenia in questo senso, però è indubbio che sia per le classifiche che sono state riportate da fare, sia perché si vede, si tocca, basta camminare, basta fare una camminata, insomma per la città e si vede come la città si sia rifiorita da questo punto di vista, però ci sono anche degli elementi sui quali prestare attenzione, innanzitutto per esempio anche l'utilizzo di queste risorse, perché dopo se le risorse non vengono ben utilizzate, anzi si rischia di fare un buco in acqua. E per quanto riguarda invece la questione del turismo, mi piace ricordare che anche noi siamo uno degli obiettivi dell'associazione, appunto che mi onoro di presiedere, è quella della bellezza e quindi della sostenibilità in funzione della bellezza, vorremmo anche cambiare, metterci anche a disposizione, in modo tale da non fare il paradigma dello sviluppo semplicemente e esclusivamente attraverso il lavoro, che è un elemento fondamentale della costituzione, perché il lavoro non significa, lo danno anche le mafie, faccio un esempio banale, quindi bisogna vedere che, qual è il lavoro che si dà essenzialmente a questa città, perché se il lavoro deve essere, non so, le recenti polemiche con la chiusura della feriera, se il lavoro deve essere della feriera che dopo inquina o che crea dei problemi non è una prospettiva di futuro della città. Quindi per esempio anche nella logica del turismo uno degli interventi, ma non è solo, ribadisco, sia anche nel settore del bio, sia nel settore del polo industriale, ma sia anche nella serie tematica della BEI, uno dice qual è la prospettiva che si viene a creare è avere un insediamento di carattere di laboratori che sono all'interno che sono laboratori altamente qualificati, un turismo di altissimo livello, quindi un turismo altamente sostenibile che spende, che investe sostanzialmente nella città e che crea delle infrastrutture che devono essere belle, quindi non necessariamente, questa è una prospettiva di sviluppo molto interessante che potrebbe ampliare e comunque rafforzare quello che è già un trend che a Trieste si nota, una città che sta rifiorendo in questo senso. Abbiamo ancora un minuto, riesce a dirmi in un minuto se guardate ad una data per comprendere se questo trend positivo della città porterà effettivamente a qualche cosa, se la città continuerà ad avere questo successo fino ad oltre quando, potremmo dire ok, c'è possibilità che anche dopo non ci si fermi. Ma guardi, i trend di sviluppo sono sempre delle curve che sono delle semi parabole, che incominciano con un trend di sviluppo alto e dopodiché si cercano di stabilizzare, quindi credo che la Trieste abbia ancora dei margini sostanzialmente di sviluppo, dopodiché diventa sostenibile, perché poi per esempio Venezia è una città che… quindi credo che nei prossimi due anni si potrà raggiungere il picco e dopo si dovrebbe stabilizzare in un senso molto positivo, quindi una città che poi rifiorendo. Grazie allora all'ingegnere Giuseppe Razza per essere stato nostro ospite, l'ingegnere Razza è il Presidente di Sustainable Financing Trieste e ricordatevi anche il panel, di sabato, di dopodomani, nell'ambito del simposio internazionale geodriatico che l'ingegnere Razza modellerà. Grazie ancora, buon lavoro, torniamo ad incontrarci, pubblicità. Grazie. Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre parlando del coronavirus perché ieri sono scattate le novità in campo antipandemico che fondamentalmente si traducono in un graduale allentamento delle restrizioni. Ma vediamo il servizio di Laura Bucarella. Stop alle mascherine sugli aerei mentre restano obbligatorie sui mezzi pubblici, bus, tram e treni fino al 30 settembre. Lo prevede il decreto approvato in Consiglio dei Ministri e che andrà in gazzetta nei prossimi giorni. Le disposizioni sono già in vigore per effetto dell'ordinanza ponte firmata dal Ministro Speranza. L'addio ai dispositivi di protezione arriva con delle eccezioni. Decade l'obbligo di indossarli al cinema, a teatro, nelle sale concerti, in palazzetti sportivi, palestre, piscine, dove saranno però raccomandati, così come non saranno obbligatori ma raccomandati ai prossimi esami di maturità e di terza media. Un sospiro di sollievo, è il caso di dirlo, per i tanti studenti che affronteranno questo importante impegno anche in vista di condizioni climatiche più che estive. Mascherina sul volto ancora fino al 30 giugno, invece nei luoghi di lavoro privati, raccomandata nella pubblica amministrazione. Decade per gli over 50 l'obbligo vaccinale. Chi non si è messo in regola nei tempi previsti potrà ricevere la multa di 100 euro dall'Agenzia delle Entrate. Su questa norma, oggi a Sveglia Trieste, ci sono state varie segnalazioni lamentele, soprattutto dagli over 50 che non hanno fatto la terza dose perché si sono ammalati di Covid dopo la seconda e non potevano quindi sottoporsi subito a una nuova iniezione. Persone che stanno ricevendo comunque la sanzione e che hanno solo 10 giorni di tempo per comunicare di essere in regola alla propria azienda sanitaria. La quarta dose sarà inevitabile. Il professor Marco Confalonieri, direttore della struttura complessa di pneumologia di Cattinara, ieri durante Trieste in diretta ha fatto il punto sulla pandemia anche sulla base di quanto è risultato dal convegno Pneumo Trieste che si è concluso ieri. E Confalonieri, ma non solo, danno per scontato il ritorno al vaccino. Stiamo in servizio. Ospite ieri di Trieste in diretta, il professor Marco Confalonieri, direttore della struttura complessa di pneumologia, rifacendosi anche a ciò di cui ha discusso l'edizione 2022 di Pneumo Trieste conclusa si ieri, ha fatto il punto sulla situazione della pandemia, partendo da un dato che potremmo definire storico ormai e che ragionando sul comportamento del virus cui va aggiunta l'efficacia della campagna vaccinale disegna per il presente e il futuro immediato un orizzonte più sereno. Tutte le estate, anche nel 2020, anche nel 2021, i casi più gravi, le gravi polmoniti praticamente poi si sono in luglio, agosto quasi azzerate. Questo succede non solo per il coronavirus, succede anche per altri virus respiratori. Intendiamoci però, e Confalonieri lo dice, non è un rompete le righe. La prudenza rimane la base dell'atteggiamento del Ministero della Salute alla luce per esempio di numeri che, al di là di quegli ufficiali del contagio, continuano ad impegnare i reparti ospedalieri. Di fatto noi abbiamo visto una quantità di polmoniti gravi che non avevamo mai visto prima, adesso stiamo toccando le 1300 polmoniti ricoverate solamente dalla pneumologia di Trieste quando normalmente siamo abituati storicamente ad averne 50 all'anno di questo tipo di gravità e quindi siamo in un fenomeno assolutamente nuovo, assolutamente mai visto prima, adesso per fortuna con la stagione calda non ci sono più tante polmonite, abbiamo ancora un piccolo reparto Covid ancora aperto ma è in fase di prosciugamento. In un contesto del genere, concludo il professor Confalonieri, il ricorso alla quarta dose appare inevitabile, anche se per il momento si sta ragionando anche sul modo in cui somministrare l'eventuale ulteriore richiamo. L'idea che diceva appunto la professoressa Plamarca, come idea dell'Istituto dell'Istituto di Sanità e anche di AIFA di andare verso una quarta dose, adesso stanno mettendo a punto dei vaccini, sono diversi in sperimentazione che possono essere attivi anche con le nuove varianti, il vaccino come anche quello dell'influenza che realmente poi ci verrà proposto quest'autunno non è ancora pronto, si parla della possibilità anche di vaccini per via orale piuttosto che aerosolica, è ancora presto per dare un identikit esatto ma andremo verso probabilmente questa quarta dose. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale da Palazzo San Sebastiano, l'Ispettorio Nello Schillani, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Cosa ci racconta di questa giornata? Speriamo niente di grave intanto. No, nulla di grave però intensa per quanto riguarda le chiusure, attualmente chiuse la via Madonnina per il sversamento è una sostanza viscida, siamo sul posto con il personale per effettuare le deviazioni e la ditta per effettuare la Polizia, speriamo di riaprirla il più presto possibile, insomma primo pomeriggio dovrebbe ultimare la Polizia quindi riaprire della strada. Sempre in zona abbiamo anche dei problemi nella piazza ospitale in quanto è chiusa, come già sapete, la via dinastica da Timeus a Largo Sartorio, si è fatto uno scavo urgente in piazza dell'ospitale, quindi all'altezza della via Tarabocchia, quindi lì si transita in un'unica corsia per quelli che provengono da via Timeus, quindi si crea purtroppo una strozzatura, quindi dei ulteriori rallentamenti. Altro scavo urgente è avvenuto in Pietà Gatteri, per cui anche lì abbiamo dei rallentamenti in zona, quindi diciamo che la zona del centro, tutta la zona dell'ospedale è un po' congestionata dal traffico, invece per quanto riguarda il resto della città il traffico è scorrevole, non ho notizie o quello che vedo da telecamera è particolare in tasamenti o rallentamenti. Per quanto riguarda la serata e soprattutto la nottata ricordo che continua sempre il rifacimento della segnaletica orizzontale, le due squadre opereranno nella zona di via Miramare, Barcola e nel quadrilatero fra via Battisti, Rossetti, Pascoli e Carducci. Come dico sempre, fare attenzione ai cantiere mobili e ai operai che lavorano in carecciata e con questo restituirei la linea in studio. Grazie, grazie Ispettore Schillani, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a te. Assieme al capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Alberto Polacco, commentiamo le elezioni dal punto di vista di Forza Italia. Vediamo. Vincitori e vinti, ribaltoni e conferme, liste che crescono, altre che assottigliano il proprio gradimento. C'è un po' di tutto nell'analisi post voto in Friuli Venezia Giulia, dove a fare il bilancio del peso politico interno sono i partiti e le liste civiche. La storica bandiera del centrodestra in Friuli Venezia Giulia, ovvero Forza Italia, si ritiene soddisfatta per i risultati ottenuti seppur con la macchia della sconfitta a Duino Orisina. Per Forza Italia è stato un risultato molto positivo, lo dicono anche i numeri, le percentuali che abbiamo raggiunto. Il dato regionale è molto, molto confortante. Abbiamo espresso sindaci da Tarvisio, a Tolmezzo, a Lignano, a Zanodecimo e siamo assolutamente tra le liste più votate a Gorizia, a Monfalcone, dove i risultati ci hanno dato ragione. Anche a Duino in Orisina abbiamo fatto una buonissima prova, peccato aver perso il sindaco per un'attaccatura. Comunque il dato di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia rispetto al dato nazionale è uno dei risultati più alti. La cosa ovviamente è stata anche confermata dal presidente Federica che ha parlato di ottimo risultato. Siamo assolutamente competitivi in un'area che politica si esprime intorno al 25% dell'elettorato e tendiamo ovviamente con un centrodestra compatto andare così avanti per le prossime regionali. Come chiusa il capogruppo azzurro Alberto Polacco, l'obiettivo delle regionali non è poi così distante. La prova di forza in casa centrodestra ha fornito alcune riflessioni. Dove c'è unità, ma vale anche per la fazione opposta, c'è spesso una vittoria, dove ci si presenta un'ittima con crepe interne e il risultato è in bilico. Dove le frizioni sono evidenti e portano a più liste autonome, non c'è via d'uscita. Eppure in tutte le grandi famiglie le discussioni sono dietro l'angolo. Basti guardare il consiglio comunale Giuliano, dove fra Fratelli d'Italia e altre liste qualche volta si discute più del dovuto. In questo però dovrà essere bravo il caposquadra, ovvero il candidato di punta, che sia un sindaco o un candidato presidente della regione. Alle mie spalle vedete l'immagine, appare su Trieste prima, di tre bottiglie che alcuni pensavano fosse un ordigno esplosivo. Vedete che sembra che ci sia anche una miccia, diciamo a collegarle. È stato rinvenuto ieri in via Orlandini a Ponziana, artificieri sul posto che hanno scongiurato il pericolo. Insomma, in fin dei conti, chiedo scusa, nemmeno di pericolo si è trattato. Non era un ordigno, insomma. Allora, ha fatto scalpore ieri l'episodio che abbiamo raccontato, quello dell'uomo che è rimasto vittima del furto di un'automobile attrezzata per i disabili. Oggi, su quanto accaduto, riflette l'ex sottosegretario alle problematiche della disabilità del governo Conte, Vincenzo Zoccano. Il livello di superficialità, di immoralità, ha raggiunto veramente un picco di bassezza. Ad opera un efficace ossimoro Vincenzo Zoccano, già sottosegretario alle problematiche dei disabili del governo Conte, per cercare di definire quanto raccontato ieri a Telequattro da Giovanni Tito, cui fra sabato e lunedì è stata rubata un'automobile attrezzata parcheggiata nello stallo riservato ai disabili all'inizio di via Cadorna. Anche Zoccano sospetta possa trattarsi di un furto su commissione. Pur se in determinati ambienti poco ci vuole o nulla per trasformare un'automobile attrezzata. Chiaro che una macchina poi è una macchina e diciamo che se fossero dei reali professionisti potrebbero benissimo riadattarla a macchina a normo guida. Sia come sia è utile riportare la discussione su quanto accaduto e cercare, ove possibile, di trarre, se non un insegnamento, quantomeno uno spunto per guardare avanti o un messaggio per la classe politica. Al di là di ogni ragionevole dubbio, qui ci troviamo di fronte a un furto ancora più odioso e ancora una volta io mi appello alle autorità istituzionali, alle autorità politiche, occorre già dalle scuole insegnare ai nostri ragazzi a vivere in un mondo migliore che è il loro mondo e per vivere in un mondo migliore occorre essere migliori noi perché noi siamo il mondo. Di fondo ragiona Zoccano, resta una riflessione che interroga le nostre coscienze. Io credo che ogni essere umano abbia iscritto nella propria coscienza al di là del credo, al di là della cultura, al di là della fede, quindi abbia iscritto il non rubare e universale. E alla fine chi osa l'ex sottosegretario sta ad ognuno di noi intraprendere una strada nuova. La coscienza purtroppo è un qualcosa di assolutamente soggettivo, di assolutamente individuale ed è chiaro che agire culturalmente per svegliare queste coscienze, se cambio io cambia il mondo, non posso sperare che il mondo cambi se non cambio io. È stato firmato questa mattina il rinnovo del protocollo d'intesa Trieste, città della conoscenza che consolida il rapporto fra gli enti locali e le realtà scientifiche di ricerca di Trieste. In questi anni sono stati numerosi i risultati raggiunti grazie alla collaborazione fra le parti, uno su tutti Trieste Next. Era il 2007 quando nacque il protocollo d'intesa Trieste, città della conoscenza, unendo le istituzioni locali e le realtà scientifiche di ricerca del territorio di Trieste, per agevolare il dialogo tra i suoi protagonisti. Oggi il protocollo è stato firmato rinnovando gli accordi in virtù della sua nuova edizione, raccogliendo oltretutto nuove realtà scientifiche. In questi 15 anni di attività di protocollo sono stati portati positivamente a termine numerosi progetti e collaborazioni, primo fra tutti Trieste Next. L'obiettivo che forse non si vede, ma che forse è il più importante, è di creare una vera comunità scientifica che fa sì che Trieste, che il territorio d'Europa con la maggiore concentrazione di ricercatori, possa presentarsi anche all'esterno come un unicum che ovviamente ne aumenta la credibilità e l'attrattività. Dall'altro lato sappiamo tutti, vediamo tutti dal punto di vista della trasmissione, della conoscenza e della divulgazione Trieste Next, che ormai ha la dodicesima edizione, che quest'anno diventa internazionale, ma sono tantissime le collaborazioni che nell'ambito o comunque parallelamente a questo protocollo di intesa, negli anni si sono sviluppati. La collaborazione dell'università e non solo con la Sissa, con gli enti di ricerca, con SGS, con la SISB, abbiamo molti docenti che fanno parte di queste associazioni e viceversa. L'amministrazione comunale che coordina il lavoro intende rilanciare l'attività con uno sguardo in particolare allo sviluppo del turismo scolastico scientifico, favorendo l'incontro tra le scuole e i licenziati e i ricercatori degli enti aderenti. Oggi l'orgoglio, sai, io parlo sempre della mia città, la città delle generali, la città della fincantiare, ma la città di una grandissima realtà scientifica e oggi avevamo qui tutti i rappresentanti e stiamo correndo insieme anche perché abbiamo un sacco di risorse a disposizione col PNR, per cui è bellissimo questo momento che tutti insieme stiamo lavorando per la città e per il paese. Vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21 con Ring. Per quanto riguarda invece il meteo, un promontorio anticiclonico di origine nordafricana si distende sull'Europa occidentale. Sul margine orientale di questa struttura scorrono correnti settentrionali in quota con tempo stabile e caldo nei prossimi giorni. Per domani si prevede cielo in genere sereno, poco nuvoloso per il passaggio di velature, ma sarà possibile lo sviluppo di cumuli nel pomeriggio sulla fascia prealpina orientale e non si esclude qualche isolato e breve rovescio. Farà piuttosto caldo in pianura di pomeriggio, in giornata soffierà brezza sulla costa che mitigherà le temperature massime. Alla sera e di notte soffierà a volino sulla costa dove le temperature rimarranno in genere oltre i 20 gradi. Vi ricordo anche l'appuntamento delle 17.30 con Trieste in diretta. Buon pomeriggio, a più tardi, arrivederci.